Ciao sono Marco del sito giocaratennis.it e anche oggi lunedì 6 settembre 2021 ti do il benvenuto nel nostro centro ad Abano Terme in provincia di Padova. In questo breve video volevo parlare della tensione delle corde. In pratica quando si rompe la corda della racchetta e va cambiata bisogna scegliere il tipo di corda e la tensione ossia quanto va attesa la corda. Tensione che viene misurata in kg. Il range medio è tra i 18 e i 24 kg. Qual è quindi la tensione ideale? Dipende da vari fattori però il concetto è che più la tensione è bassa quindi tra i 18 e 19 kg più la palla esce veloce ma con meno controllo. Più la tensione è alta quindi tra i 23 e 24 o addirittura 25 kg più si ha controllo però si perde velocità. L'obiettivo è trovare il giusto equilibrio tra controllo e velocità. Se vuoi venirci a trovare qui sotto ti metto tutti i contatti.